Arriva, attento, libera, ecco, il battito è stabile, sta uscendo, ma mancano mesi, è scivoloso, è che cosa è stato? Uno sbaglio, si tratta di qualcosa di assolutamente unico al mondo, è vuoto, Klaive, Klaive, Klaive! Elsa, esci subito, è pericoloso, sta crescendo in fretta, in pochi minuti cresce di giorni, è perfetta, abbiamo passato il limite, cosa vi aspettavate creandola? Qual era il piano? Non puoi portarla fuori, i campioni non devono uscire da qua. Non chiamarla così. Che sta succedendo? È diventata instabile. È il disastro che tutti temono, una nuova specie che gira libera per il mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.